Musica Dopo che la notizia ha fatto il giro d'Italia e ha sollevato le aspre polemiche delle associazioni dei familiari vittime della strada, il prefetto Sesta fa marcia indietro sul caso Patenti, che la volontà del rappresentante di governo fosse quella di non punire gli automobilisti ubriachi era chiaro sin dall'inizio, ma non è bastato il paradosso giudiziario per cui la patente viene puntualmente riassegnata tramite ricorso ai giudici di pace, è passato il messaggio per cui non vi erano stanzioni, che nella precedente circolare il prefetto di Cia sarebbero state attivate d'ufficio, senza ritiro materiale ma con l'invio del verbale da parte delle forze dell'ordine in prefettura, che aveva valutato i casi ed eventualmente fatto risparmiare contenziosi alla pubblica amministrazione. Il messaggio non è arrivato, ragion per cui meglio fare marcia indietro, ed ecco che il prefetto scrive nuovamente ai vertici delle forze dell'ordine e chiede di cessinare la circolare i sette giorni fa. Serviranno incontro ed approfondimenti per far comprendere il senso di una decisione apparsa come un'approssimazione della forma, ma che nella sostanza forse voleva essere qualcosa di più e di meglio. Fa bene il prefetto a tornare sui suoi passi, preannunciando a breve un comunicato stampa per chiarire i passaggi dell'ordinanza e la discordia. Inutile ritirare la patente, tanto i giudici la ridanno con i ricorsi. Se questo era il senso, è allora opportuno che si intervenga presto per modificare le leggi. Dal 3 al 24 agosto i malati oncologici non potranno essere ricoverati all'ospedale Moscati, perché, a causa delle ferie, il reparto non ha medici a sufficienza per coprire i turni. La notizia data e commentata da PrimaTV nel corso del venerdì del direttore ha scatenato la protesta dei familiari dei pazienti ammalati di tumore e costretti ora a rivolgersi ad altre strutture sanitarie extra-provinciali. Decine di telefonate sono giunte alla nostra redazione per trovare conferma della notizia. Tutti dello stesso tono i commenti. È una vergogna. Solo in campagna possono accadere certe cose. Va sottolineato che alcuna responsabilità può essere addebitata al primario di oncologia e tantomeno alla direzione generale del Moscati. La carenza di organico è stata denunciata da oltre un anno. Il turnover non è stato ancora sbloccato. I pochi posti per ora concessi ad oggi non sono stati messi a concorso dalla Regione mentre c'è l'obbligo di concedere le ferie in questo periodo al personale in servizio. Sempre in oncologia del resto già da mesi si è stati costretti ancora per canenza di personale a chiudere il laboratorio di tumori ereditari. Un servizio di prevenzione fortemente innovativo e peraltro unico in campagna la cui importanza era stata sottolineata dai minenti accademici di fama internazionale. Il Fondo Monetario Internazionale gela l'Italia nella torrida estate 2015. Secondo le previsioni ci vorranno almeno 20 anni per recuperare i livelli di occupazione precedenti la crisi. Un quadro a tinte fosche ma soprattutto a futuro zero per un'intera generazione di giovani. Come se non bastasse, la CGA di Mestre certifica che il Sud paga il conto più salato degli ultimi otto anni in termini di posti di lavoro. Nel meridione, infatti, i posti persi sono stati il 60% del totale. Neppure la notizia del lieve aumento del numero di contratti a tempo indeterminato che circola in queste ore fa sperare per il meglio. Forte sul tema la presa di posizione del deputato di scelta civica Angelo D'Agostino. Il governo deve varare un piano straordinario di misure che serva a rilanciare l'economia e l'occupazione nelle regioni meridionali. La perdita al Sud di oltre 580.000 posti di lavoro e le previsioni dell'FMI ci impongono di intervenire per evitare un acuirsi della crisi sociale. Secondo i dati diffusi dalla CGA di Mestre, prosegue il parlamentare, dal 2008 al primo trimestre 2015 si sono persi 932.000 posti di lavoro, di cui più della metà nelle regioni meridionali. Un dato che la dice lunga sulla necessità di interventi specifici. I settori più colpiti sono l'edilizia, il manufatturiero e il piccolo commercio. E' su questi settori che occorre intervenire con provvedimenti ad hoc. Una sensibile riduzione della pressione fiscale, in linea con il piano Zanetti, una fiscalità di vantaggio studiata per il Sud, costituirebbero certamente un primo e significativo passo in avanti per evitare che il Sud sia lasciato al suo destino. D'altronde, chiude D'Agostino, senza il rilancio del mezzogiorno non c'è possibilità di rilancio per l'Italia. Quattro le fasi previste, più di 102.000 le cattedre a disposizione, sono i numeri del Maxi Piano Nazionale di Assunzioni che il Governo ha varato con la contestata riforma della buona scuola. Da questa mattina è partita la macchina delle istanze online. Sono attese fino al 14 agosto, ultimo giorno utile per la presentazione, più di 130.000 domande. Entro il 15 di agosto gli uffici scolastici regionali e provinciali esauriranno la prima fase con assunzioni destinate a coprire il fabbisogno derivante dai pensionamenti. In Campania sono attese 1.645 assunzioni per le graduatorie comuni, comprensive di scuola dell'infanzia, primaria, primo e secondo grado e 500 assunzioni sul sostegno in questa prima fase. Numeri esigui destinati ad aumentare con altri 10.000 posti in Italia che saranno assegnati dai provveditorati regionali nella seconda e terza fase che terminerà entro metà settembre. Poi scatterà la quarta fase, da settembre a metà novembre, il grosso delle assunzioni con il cosiddetto potenziamento. 7.000 assunzioni per la Lombardia, la regione che assorbirà il maggior organico, seguita dalla Campania con 5.314 assunzioni. Le domande vanno presentate esclusivamente via internet e non avranno un ordine cronologico. La graduatoria finale sarà elaborata dal sistema tenendo presente il punteggio su scala nazionale e le province che ogni singolo candidato elencherà come prioritarie. I sindacati in queste ore ricevono dal Ministero le risposte agli oltre mille quesiti posti sui dubbi interpretativi della legge. Il consiglio è di non affrettarsi e di informarsi per bene presso le strutture attivate dai sindacati. In generale la presa di servizio sarà immediata per le nomine effettuate entro il 15 settembre. Nel corso dell'anno per quelle effettuate successivamente. Al primo luglio 2016 se il docente ha avuto nel frattempo una supplenza fino al termine delle elezioni. Al primo settembre 2016 se il docente ha avuto una supplenza annuale. Prima gara davanti al pubblico di casa del partito Lombardi per il nuovo Avellino. Targato Attilio Tesser dopo le amichevoli soft con la rappresentativa Sun e la primavera gli Irpini sono attesi dal test sicuramente più probante del Memorial Tacone contro l'Espagnol. Davanti ad un pubblico purtroppo come annunciato non delle grandi occasioni sono infatti poco più di 1.700 tifosi presenti. Tesser schiera al suo 11 titolare con frattali tra i pali in difesa a Nitriaschi e Visconti sulle fasce. Viraschi e Ligi al centro. Terzetto di metà campo composto da Gavazzi a Rini e Schiavon con Insigne alle spalle del tandem Trotta-Tavano. Solo panchina per l'attesissimo Gigi Castaldo. Gli ospiti che inizieranno il loro campionato da due settimane partono bene e si fanno pericolosi in più di un'occasione senza però creare troppi grattacapi a frattali. Vavellino si fa vivo all'undicesimo quando Insigne a servire Tavano ma il bomber decide di concludere di prima intenzione ci abbattando la palla. Dopo tre minuti sono ancora i lupi a farsi pericolosi. Visconti lavora un buon pallone sulla sinistra, cross in mezzo che trova la testa di Trotta ma la sfera si spegne a lato. Al sedicesimo Gliotto occasione per l'Espagnol. Caicedo scambia al limite dell'aria, si trova tu per tu con frattali ma l'estremo difensore Irpino è insuperabile con un grande intervento chiude in corner. La partita vive di una fase di stanca fino alla mezz'ora quando Burgui lascia sul posto Nitriaschi e calcia di poco a lato. Sono ancora gli ospiti a farsi pericolosi sul fine di tempo. Prima con Montanes sugli sviluppi di un corner, si coordina e scaglia un tiro che lambisce il palo. Poi è ancora Caicedo a mancare incredibilmente l'appuntamento con il gol con una spaccata che termina alta. C'è anche il tempo prima della chiusura della frazione per un piccolo parapiglia tra Biraschi e Caicedo si è dato a fatica dall'arbitro. Nella ripresa Testeri inizialmente non cambia, in apertura di frazione botte il risposto tra le due squadre e prima Arbiglia ad impensierire Frattali con un tiro da fuori disinnescato dal portiere di casa. Poi è Gavazzi a provarci con un tiro che però finisce alto. Inizia la girando a disostituzione in Casavellino, fuori Trotta e Nitriaschi dentro Moculu e Nica. Dopo qualche minuto brivido per Frattali che sbaglia un rinvio ma è lessa la difesa irpina a chiudere. Al diciannovesimo standing ovation per Gigi Castaldo che entra in campo al posto di Tavano un po' in ombra. Dopo un minuto i lupi vanno vicini alla rete su calcio d'angolo di Gavazzi con Moculu che incorna centralmente il portiere blocca a terra. L'ultima vera occasione del match poco dopo la mezz'ora quando Duarte da quasi 30 metri prende la mira e calce a me ancora super Frattali a dirgli di no. Terminano i 90 minuti regolamentari sullo 0-0. Si va ai calci di rigore. Per l'Avellino dopo le reti di Arini e Castaldo sono fatali gli errori di Tutino e Tattilio per regalare il secondo membro al taccone all'Espagnol. Nel complesso comunque sono arrivate delle buone impressioni da questo Avellino soprattutto in fase difensiva con il duo Biraschi-Leggi sugli scudi. Migliore in campo tra i biancoverdi, Gavazzi che dimostra di avere numeri d'alta scuola. Attacco un po' a Bulico ma è solo calcio d'estate. Prossima amichevole per l'Avellino il 2 agosto a Lanciano ed anche in quell'occasione Castaldo potrà scendere in campo per l'ultima volta prima di rivederlo nuovamente in una gara ufficiale a dicembre. Nel giorno della prima apparteniva Lombardi del nuovo US Avellino ad agitare gli animi nel pre-partita è stata la notizia del possibile deferimento dopo quello del Catania per la vicenda a calcio scommesse anche dell'Avellino. Il procuratore federale Palazzi infatti sembra non aver dubbi il risultato di Catania-Avellino lo scorso 29 marzo fu alterato. Palazzi da per scontato che è stato contattato uno o più calciatori dell'Avellino a cui sono stati offerti o promessi soldi per favorire la vittoria del Catania. Nella nota del deferimento di Antonino Pulvirenti si legge testualmente sono in corso ulteriori indagini penali posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento della gara del campionato di Serie B. Catania-Avellino disputata il 29 marzo 2015 e terminata con il risultato di 1-0 offrendo o promettendo denaro o alta utilità o vantaggio ovvero compiendo altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo e comunque contattando a tale fine calciatori dell'Avellino allo Stato non identificati o in corso di compiuto accertamento o nei cui confronti sono in corso ulteriori indagini penali con la conseguente accettazione o accoglimento e la promessa da parte di questi ultimi ossia Cosentino e Pulvirenti e comunque con la partecipazione degli stessi all'attività finalizzata allo scopo al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente il corretto e leale svolgimento della competizione sportiva favorendo la vittoria della squadra del Catania ai danni di quella dell'Avellino Se da un lato il procuratore Palazzi continua le indagini si dice sicuro e la combina tra le due squadre dall'altro c'è l'ex presidente Etneo Pulvirenti che ha a più riprese dichiarato anche agli stessi inquirenti che le partite da lui comprate sono 5 e non c'è quella con i biancoverdi Fatto sta che ora come ora le parole di Pulvirenti non convincono del tutto le indagini continuano e Avellino e l'Avellino tremano c'è da capire poi chi sono i presunti calciatori coinvolti i cosiddetti treni in questione l'Avellino dunque trema ma cosa rischia? in caso di accertato coinvolgimento si potrebbe parlare anche di responsabilità oggettiva o di omessa denuncia nella prima ipotesi l'Avellino rischierebbe una penalizzazione che potrebbe variare da 1 a 3 punti nel caso di omessa denuncia la società biancoverde potrebbe cavarsela anche solo con un'ammenda ovviamente sono ipotesi ma nel frattempo la procuratore Palazzi studia il caso e sono attese decisioni a breve nei prossimi giorni infatti dovrebbero arrivare altri deferimenti c'è solo da attendere dunque e sperare che Palazzi abbia preso un abbaio in caso contrario ci sarebbe da interrogarsi su molti aspetti nominata la nuova giunta comunale come annunciato dallo stesso sindaco Paolo Foti nel corso dell'ultimo consiglio comunale si è trattato di un passaggio puramente amministrativo e non politico il primo cittadino esprime piena gratitudine gli assessori uscenti per la dedizione e il proficuo lavoro svolto e presenta la nuova squadra composta da Maria Elena Iaverone vice sindaco con delega al patrimonio personale condenzioso formazione e innovazione finomena alla zazzera bilancio, finanza e tributi politiche finanziarie partecipate e controllo di gestione Ugo Tomasone, urbanistica, governo del territorio pianificazione PUC, mobilità sostenibile sistema integrato dei parcheggi Costantino Preziosi, lavori pubblici protezione civile e trasporto pubblico locale Roberto Dorsi, politiche ambientali ed energetiche Marco Cillo, politiche sociali e trasparenza Ida Pugliese, politiche culturali Arturo Iannacone, attività produttive e fondi europei Teresa Mele, pari opportunità e inclusione sociale Ieri con i voti favorevoli di Giordano, Iandiorio, Iaverone, Preziosi e Cignarella al comune di Avellino è passato il bilancio previsionale nonostante le assenze di Davanzo, La Verde, Marchitello e Roberto è arrivato il voto finale e come annunciato questa mattina è stata lominata la nuova giunta martedì si riunirà per la prima volta Stamattina abbiamo aperto la prima corsia della Bonatti finalmente dopo quattro anni di inizio cantiere perché nel 2011, nel mese di giugno iniziò questo cantiere che poi per alterne vicende si è fermato due volte adesso sembra che, pure ricordandoci quello spot che abbiamo fatto sembra che è la volta buona per terminarla ricordiamoci che nel mese di maggio abbiamo avuto l'accelerazione della spesa per la Bonatti questo ci consente in questo momento di avere tanta forza lavoro in campo all'inizio del campo B, fino alla rotatoria del cimitero penso che per la fine dell'anno riusciamo a aprire tutto poi ci sarà un secondo stralcio che si partirà con l'anno nuovo per realizzare la parte finale dove sta l'isochimica l'accesso e l'uscita al pronto soccorso penso che sia uno step successivo ma massimo all'inizio di settembre almeno per quanto riguarda la parte nostra la realizzeremo c'è poco da fare questo tratto qua penso che per settembre-ottobre lo dovremo per forza terminare che poi è il punto nevralgico di tutto l'intervento della Bonatti davanti alla città ospedaliera perché per quanto riguarda dalla galleria della Bonatti fino alla rotatoria del cimitero praticamente dobbiamo fare solamente la pubblica illuminazione al di sotto della galleria e l'installazione di tutti i guardrail perché lì è già terminato il lavoro dobbiamo aspettare solo queste due cose per poter aprire Corso Europa stiamo veramente a buon punto penso che prima delle festività di Ferragosto riusciamo a terminare tutto il marciapiede diciamo lato opposto alla posta di questo secondo tratto tra via Zigarelli e via Matteotti per quanto riguarda Piazza Libertà abbiamo un po' di ritardo penso che la settimana prossima arriverà anche la pavimentazione quindi dopo che si inizierà a posare la pavimentazione avremo contezza dei tempi contrattuali dell'eventuale rispetto Un gran numero di fedeli e non solo ha affollato il palazzetto dello sport di Avellino per la cerimonia dell'ordinazione episcopale di Monsignor Sergio Melillo nuovo vescovo della diocese di Ariano Irpino la Cedonia la cerimonia è stata presieduta da Monsignor Francesco Marino presenti anche il Cardinale Sepe e i vescovi consacrati Monsignor Adriano Bernardini Nunzio Apostolico in Italia Monsignor Giovanni Dalise vescovo di Caserta ex vescovo di Ariano Irpino la domina di Don Sergio Melillo è datata 13 maggio giorno dell'anniversario e la prima apparizione della Madonna di Fatima è stato Papa Francesco a decidere dopo aver letto la lettera di Blundo ho avuto uno sparo al cuore quasi mi veniva da piangere ma ho capito che era lo spirito e grazia di Dio sono queste le parole del pontefice nell'accogliere la prestante richiesta di Ariano queste le parole invece del nuovo vescovo Sergio Melillo quando Sua Eccellenza il Nunzio Mondior Bernardini mi ha comunicato la volontà del Santo Padre nominarmi vescovo un turbine di emozioni mi ha avvolto mi sono risuonata e la mente queste parole sempre mi torna la tua grazia dono improvviso e la vita adora adora meraviglia di te signore dopo la cerimonia successivamente il prossimo 9 agosto Sua Eccellenza si insedierà sul Tricolle Carenza di sangue all'azienda ospedaliera Moscati per fronte all'emergenza la sala prilievi servizio immunomatologia e medicina trasfusionale sarà aperta anche domenica 2 agosto il servizio di Avellino segnala infatti una grave carenza di sangue che rischia di compromettere la regolare attività clinica e chirurgica per fronteggiare la difficoltà e garantire le necessarie sacche ematiche si invita pertanto la cittadinanza alla donazione la sala donatori presso la città ospedaliera settore B piano terra è aperta dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12 visto lo stato di particolare emergenza di questi giorni dovuto soprattutto al calo del numero di donatoni che si registra nel periodo estivo il personale si è reso disponibile a eseguire una raccolta di sangue anche nella mattina di domenica 2 agosto sempre dalle 8.30 alle 12 si ricorda che la donazione di sangue non solo rappresenta un importante gesto di solidarietà ma è anche un'occasione per un controllo gratuito del proprio stato di salute i risultati delle analisi eseguite in occasione del prelievo inoltre vengono inviati a domicilio del donatore del donatore a domicilio di sali a domicilio a domicilio